...pipia, tipo questo. E non prendo un'acciaio da vita, non so, 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 non so. E' più ciò se stai calmo i papi, tu suona mio, sei tu, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so. C'è stata la tua vita, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Non di caso sbalzo una volta di me un terdino Non c'è vera C'è una cosa a una pezzata domanda brava A questi rinomati Com'è bella canta una canzone per te Mentre male si cerca E se sbaglio il parola non si c'è la mia vita guarda E tornando a mano Ma sono... Com'è bella canta una bella Com'è bella canta una bella Tra la lente per noi tutti ci Com'è tutti in fondo E adoro a qui 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 Non ho mai provato niente di simile. Ma questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio. Questo è veramente un grande artista, ma soprattutto un bravo ragazzo. Perché nella vita, prima di fare qualsiasi tipo di mestiere, che può essere un avvocato, l'ingegnere, o guardiamaghi, o muratore, o l'artista, il cantante, bisogna prima essere uomini e poi fare quello che si fa. E lui no, è un bravo ragazzo dai valori sani, in principi, è la cosa più importante. Io ti posso solo augurare tutto il bene del mondo. Posso augurarti di fare mille volte, un miliardo di volte di quello che è successo a me. Quindi questo non so cosa riusci. Loro, come vedi il mio pubblico, è un pubblico pulito, è un pubblico di sentimenti. Tant'è che non t'hanno fatta cantare, hanno cantato loro la canzone. Ma non ci sono riuscito, te lo giuro. E quindi niente, questo è il saluto del Palapartenope per te. Grazie Gilles. Grazie. Grazie a tutti.